Buonasera a tutti, siamo qui nello stand di AeroCompact e stiamo presentando le nostre strutture per impianti fotovoltaici, principalmente sul tetto, abbiamo anche soluzioni a terra, ma principalmente sul tetto, affrontiamo sia il tetto piano che il tetto sulla mela aggregata e questa soluzione è una delle soluzioni che stiamo presentando e che stiamo installando maggiormente nel nostro territorio italiano. È una soluzione particolarmente adatta per i tetti con cupolini, quindi da mela aggregata, tetti curvi, in questo caso possiamo andare, si vede da questo sistema, possiamo compensare, perché questa è nella versione dritta, però immaginatelo in un cupolino che mi va a compensare la curvatura del cupolino, fissandomi direttamente sul cupolino, quindi non andando a fissarci sui travi. È una soluzione diversa da quello che c'è, viene garantita per 25 anni tramite i nostri calcoli statici. Oltre a questo sistema, nello stand stiamo presentando anche soluzioni per tetto piano, innovative, diverse da quelle precedenti, che ci permettono di installare anche i pannelli, quelli di grandi dimensioni, che superano i due metri e che in questo momento si stanno proponendo molto nel mercato. Vi aspettiamo per altre soluzioni e se desiderate contattarci, a Aerocompat in Italia siamo presenti e facciamo grandi impianti.